E' quella la cosa più importante Devo dire di rispostarti perché non arriva a fare il mio Riccardo, Riccardo, ti ho interesso il dito No, perché, no, no, questo è buono No, intanto, buonasera a tutti E' meraviglioso stare in questa società come tifoso ma anche come tecnico, perché chi non lo sa insomma, parte la BAC per i 15 anni di calcio che ho fatti E' abbastanza bello E devo dire che noi siamo entusiasti Voi ci avete regalato anche delle bellissime soddisfazioni specialmente a mia moglie perché vedendo queste ragazze che hanno questo entusiasmo l'ho detto anche in trasmissione La battaglia che di Tartemio non sanno questa la sto facendo io, ma tra poco lo sa anche lui perché non è pieno dei comunicati e di video e quella di sto andando da vecchio con 160 richieste tra senatori e deputati e a me non me ne frega nulla del colore politico perché lo sport non ha bagliere politica ma è un diritto di tutti di far riconoscere questo benedetto professionismo al calcio femminile di serie A, di serie B e di serie C perché il professionismo vero è lì Abbiamo già detto e preannunciato con alcuni amici che si porterà avanti questo discorso Caprini mi sembra che già la vostra Presidente ci ha già parlato quindi si sta cominciando a fare una miscela per questo tipo di discorso che non è un sogno irrealizzabile è una giusta gratificazione delle ragazze che secondo te insieme allo staff ed ecco insieme soprattutto ai genitori fanno dei sacrifici enormi per realizzare quello che è correre su quel campo e la domenica da oggi in poi faccio la maglietta che ha scritto a banca e l'ero tutto chiunque segna deve venire lì sotto così almeno ci togliamo anche qualche sassolino con qualcuno tu ci hai mai capito che ce l'ha un po' con noi però io ho già detto il derby se può fare può stare a essere lì non sta a costruire fatta finita quando arrivate possiamo parlare insomma è questo abbiamo fatto una bellissima foto qui sono anche il mio amico perché noi in curva ne abbiamo fatte tanti di Tony A.S. di Roma che è lì Roma Club e di Stato non so quante e colui che manda quelle foto sul video io gli mando il colosso e lui lo fa diventare giallo rosso questo per dirvi che come appariamo sul monumento di Roma lo possiamo subito giallo